Il mio intervento riguarda la bioprotezione dei mosti con un lievito del genere Meshnikovia. Innanzitutto volevo salutare la collega Isabel Domotior che ha contribuito notevolmente alla realizzazione di questi lavori. Nella vinificazione in bianco e rosato le operazioni pre-fermentative favoriscono i fenomeni ossidativi e le alterazioni mitrobiologiche. L'aggiunta in solforosa evita questi problemi ma oggi la tendenza va verso una riduzione delle dosi e esiste quindi un rischio di perdere il controllo di questa fase pre-fermentativa. La bioprotezione con un lievito non fermentativo può essere quindi un'alternativa innovativa. Vi presentiamo una selezione che è stata realizzata all'Institut Francais du Vin partendo da una collezione di circa 500 ceppi da cui abbiamo selezionato un ceppo di Meshnikovia pulcherrima. Le caratteristiche considerate sono state queste una scarsa attitudine alla fermentazione, scarsa produzione di acido acidico, una buona impiantazione a bassa temperatura, un equilibrio aromatico positivo e naturalmente una buona stabilità genetica. Il lievito che abbiamo preso in considerazione si chiama RCH 1521 ed è prodotto dall'Allemand sotto il nome Level 2 Inizia. La Meshnikovia Inizia è stata attestata in diversi vitigni, in particolare su Chardonnay, Sauvignon, Riesling e su Grenache rosa. Questo su mosti solfitati, non solfitati in diverse condizioni. Inizia è stata utilizzata la dose di 10 grammi ettolitro, come vediamo in questa immagine. Nell'arco di quattro giorni la popolazione cresce nonostante la bassa temperatura. Vediamo che il consumo di zuccheri è molto debole, il che ci conferma l'assenza di un metabolismo fermentativo. Il mosto poi successivo è stato addizionato di Saccharomyces cerevisia. Alla fine abbiamo controllato l'acidità volatile inferiore a 0,25 grammi litro espressa in H2SO4. Questo per tutte le quattro condizioni sperimentali. L'ossigeno, come sapete, è il fattore chiave nei fenomeni ossidativi. Anche qui abbiamo monitorato l'ossigeno disciolto nella fase prefermentativa per questi quattro mosti di Chardonnay, Sauvignon, Riesling e Grenache. Abbiamo fatto una prestatura per evitare l'effetto della flora microbiologica indigena e l'effetto delle ossidasi dell'uva. Abbiamo dotato poi i mosti di sensori di ossigeno con un lotto di controllo non solfitato, uno con un solfitaggio a 50 milligrammi litro e uno protetto con inizia la dose di 10 grammi ettolitro. Qui vediamo che la quantità di ossigeno disciolto nei lotti non solfitati aumenta gradualmente fino ad arrivare ad un plateau. È interessante vedere che abbiamo un'evoluzione simile con il lotto solfitato, la linea in rosso, in cui si raggiunge un palier e un plateau di circa 8 milligrammi litro. E se confrontiamo con il lievito da bioprotezione inizia, vediamo che in questo caso la percentuale di ossigeno disciolto viene ridotta costantemente fino ad un valore insignificante. Qui abbiamo ripreso le prime ore della bioprotezione con inizia, quindi le prime sei ore dopo l'inocculo e vedete che è necessario questo tempo di sei ore per far scendere il percentuale di ossigeno disciolto fino a una quantità di un milligrammo litro. La crescita di inizia nel monsto a bassa temperatura viene fatta sul consumo degli zuccheri e quindi un metabolismo respiratorio assicura la sintesi di composti cellulari essenziali alla crescita. Questo metabolismo è ancora più importante per un lievito come Meshnikovia, che secondo i lavori recenti sappiamo che non ha la capacità di assimilare i lipidi disponibili nel mosto. Di conseguenza deve sintetizzare questi lipidi per creare acidi grassi e saturi costitutivi della membrana, come l'acido oleico, l'inoleico. La bioprotezione con inizia può essere interessante anche nei confronti dei microrganismi contaminanti come l'anseeniaspora uvarum. Sapete che si tratta di un lievito ossidativo molto presente sull'uva e questo lievito ha la specificità di poter produrre quantità importanti di acido acetico e di acetato di ettile. Abbiamo fatto una prova su due mosti di chardonnay con 200 grammi per litro e 200 grammi per litro di zucchero, proprio per testare questa capacità di protezione del lievito inizia nei confronti di anseeniaspora uvarum. Abbiamo due lotti, uno con e senza bioprotezione, quindi un lotto contaminato con l'anseeniaspora uvarum e protetto con Mecnicovia pulcherrima inizia. In questa immagine vediamo un'incubazione a 5 giorni, prima della giunta di Saccharomyces cerevisiae, vediamo che senza bioprotezione le curve rosse, la crescita della popolazione di anseeniaspora uvarum è graduale fino ad arrivare a una popolazione finale di circa 100 milioni di cellule per milliletro. In parallelo, se confrontiamo con la bioprotezione con inizia, si osserva che la crescita di anseeniaspora uvarum ha una crescita molto limitata. E quindi vedete questa crescita limitata di anseeniaspora uvarum in presenza di bioprotezione. E poiché il lotto è stato inoculato con Saccharomyces cerevisiae abbiamo controllato anche l'acidità volatile a fine fermentazione alcolica e sono i riquadri di destra. Potete vedere che con la bioprotezione avete un valore di circa 0,20 per l'acidità volatile e vedete la differenza, quindi da sostanzialmente il doppio nel caso in cui non ci sia bioprotezione. Un altro interesse di Meshnikovia pulcherrima è la capacità di fissare rame. E in questa slide abbiamo un risultato che è stato ottenuto su una vinificazione sperimentale, in questo caso con un mosto che presentava una quantità importante iniziale di rame. E qui abbiamo diversi fattori, in particolare la bioprotezione con inizia e potete constatare che la bioprotezione con inizia porta ad una riduzione del 40 per cento di questa quantità di rame. Altri risultati vi saranno presentati a seguito del mio intervento da José Maria Heras. Le nuove possibilità che possono essere interessanti per la bioprotezione ai mosti bianchi e rosati consistono anche nel giocare sulla durata della fase prefermentativa. E quindi esistono queste nuove possibilità, la possibilità di allungare la fase prefermentativa evitando contemporaneamente un avviamento precoce della fermentazione alcolica. Per questo fatto abbiamo una prova in cantina sperimentale sul vitigno chardonnay. In un primo momento abbiamo considerato tre lotti vinificati con una fase prefermentativa breve, con una sfecciatura enzimatica di 24 ore, con poi aggiunta di saccharomyces e cerevisie. Questo lotto era non solfitato, c'è stato poi un lotto solfitato 50 mg litro e uno bioprotetto con level 2 inizia. Avevamo anche un quarto lotto che è stato vinificato con una lunga fase prefermentativa di 7 giorni, in cui era stata prevista la bioprotezione con inizia. Quindi due giorni di chiarifica statica, con poi stabilazione liquida a freddo per 5 giorni a 10 grammi. E poi l'inoculo e saccharomyces cerevisie per avviare la fermentazione alcolica. Abbiamo osservato che tutti i vini presentavano una gradazione alcolica del 13% in volume e erano tutti completamente secchi. Questo al fine fermentazione alcolica, quindi sono stati portati a secco. Quindi la bioprotezione con inizia non impone una gestione particolare della nutrizione azotata. Su questa immagine vediamo l'acidità volatile che è stata rilevata a fine fermentazione alcolica. Vediamo che l'acidità volatile è leggermente più alta per il testimone non solfitato, anche se il valore è relativamente basso. Questo per il fatto che si era in una cantina sperimentale, quindi un contesto molto controllato. Ma l'altro dato interessante è sull'istogramma di destra e lì vediamo che nonostante un allungamento della fase pre-fermentativa a 7 giorni, la bioprotezione con inizia non ha dato luogo a incrementi di acidità volatile. Abbiamo una volatile molto bassa a fine fermentazione alcolica. Infine abbiamo fatto una valutazione sensoriale su questi vini finiti al momento dell'imbottigliamento. E la cosa che bisogna ricordare di questa immagine, se confrontiamo i mosti non solfitati, solfitati e quelli con bioprotezione, è che innanzitutto per quanto riguarda l'intensità fruttata, la solforazione classica ha tendenza a favorire l'intensità fruttata. Abbiamo lo stesso risultato con inizia, ma se confrontiamo la qualità complessiva del vino, è interessante constatare che questa tecnica innovativa che consiste nell'allungare la fase pre-fermentativa consente anche di migliorare la qualità d'insieme del prodotto. E quindi tutto ciò per dirvi che questa bioprotezione con inizia può naturalmente dare una bioprotezione nei confronti dell'ossidazione, anche nei confronti dei microorganismi indesiderati, ma consente anche nuove opportunità enologiche, in particolare con un controllo più completo e più lungo della fase pre-fermentativa. E con questo lascio la parola a José Maria Eras, che vi darà delle informazioni supplementari sui lavori che sono stati fatti in condizioni sperimentali e in un contesto di cantina reale. Quindi vi ringrazio l'attenzione e passo la parola a José Maria Eras. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Volevo continuare l'intervento del professor Gerbaud. Vorrei condividere con voi diverse sperimentazioni pratiche che abbiamo fatto con questo strumento davvero innovativo. Innanzitutto, volevo confermare alcune delle caratteristiche che sono state presentate dal professor Gerbaud. In questa prova che abbiamo fatto in collaborazione con l'Istituto di ricerca Sicarex nel sud della Francia su una vinificazione senza aggiunta di solfiti, in questo caso si trattava di un mosto chardonnay che è stato preparato per stabilazione a freddo a bassa temperatura. E possiamo vedere sulla sinistra, possiamo vedere le diverse popolazioni di Anseniaspora e di altri microrganismi Saccharomyces e non Saccharomyces. E qui vediamo diversi lotti. Uno che è stato utilizzato come controllo e l'altro dove abbiamo fatto l'inoculo. Lo vediamo nel lotto di stabilazione e di controllo. Vediamo la popolazione di Anseniaspora che è aumentata. Mentre dove avevamo inoculato inizia durante la stabilazione a freddo abbiamo avuto una colonizzazione ottimale del mezzo limitando la crescita dei lieviti ossidativi a Anseniaspora uvarum. Possiamo inoltre confermare questa scoperta sulla capacità di consumo dell'ossigeno disciolto. Questo studio in collaborazione con l'Università di Udine dove alcune uve Sauvignon Blanc della zona del Friuli presentavano caratteristiche particolari ovvero sia un pH elevato intorno a 3,8 e una sanità non ottimale. Questa uva è stata divisa in tre diversi lotti dove abbiamo fatto una macerazione prefermentativa a freddo a contatto con le bucce per 24 ore a 8 gradi. In uno dei lotti abbiamo aggiunto solforosa, 4 grammi etolitri. Nell'altra dose, nel terzo lotto, abbiamo aggiunto il level 2 inizia. Quindi vedete abbiamo monitorato il livello di ossigeno disciolto alla uscita dalla pressa e vedete che i livelli con inizia sono paragonabili a quelli con l'aggiunta di solforosa. Quindi i lieviti hanno fermentato nelle stesse condizioni con lo stesso lievito Saccharomyces. Vedete alla fine la fotografia dei vini ottenuti. Vediamo il colore. Vediamo che il mosto bioprotetto ha delle caratteristiche biocromatiche molto interessanti, molto più interessanti rispetto all'otto senza solforosa e paragonabile all'otto con solforosa. Come diceva anche il professor Jarboe, un'altra caratteristica particolare e interessante di questa Mechnikov-Pulkernikma è la sua capacità di ridurre la quantità di rame nel mosto. Sono state fatte diverse prove che confermano le scoperte dell'Istituto dell'ICBVV, ma bisogna anche sottolineare questa varietà interspecifica perché se confrontiamo queste condizioni, questo Sauvignon Blanc dopo due giorni a 15 gradi, vediamo che la capacità intrinseca di inizia consente di ridurre i livelli di rame più di altre Mechnikovia. Poi sono state fatte diverse prove in cantina, questo per lavorare con gli enologi e per vedere la stabilità di questa bioprotezione e per valutare le applicazioni anche nella fase pre-fermentativa. Qui siamo in una cantina di Valencia in Spagna con Sauvignon Blanc, l'uva vendemmiata a macchina, vendemmia notturna e poi la formazione dell'inserimento delle uve in queste vasche isotermiche con stabilazione a freddo per cinque giorni. Quindi la fermentazione è stata condotta con i medesimi protocolli e alla fine si sono analizzati i vini imbottigliati. Questi i musti, i vini, hanno presentato delle differenze nell'otto protetto con inizia a confronto con un altro non saccharomyces disponibile nel mercato e vediamo i livelli di tioli volatili che sono più elevati nei lotti con bioprotezione. Anche questo è interessante per validare le proprietà nell'evitare i fenomeni ossidativi. Per concludere questa prima parte stiamo parlando di un lievito non fermentante che ha proprietà uniche nella protezione del mosto dai fenomeni ossidativi per la sua capacità di consumare l'ossigeno disciolto e per la sua capacità di ridurre il contenuto di rame nel mosto. Ha un'ottima capacità di attecchimento, di colonizzazione e una forte crescita anche a bassa temperatura e con questo si può contrastare lo sviluppo di organismi contaminanti. È uno strumento flessibile che può essere applicato nelle diverse fasi dalla vendemmia fino alle fasi fermentative. Questo strumento, Mecnicovia Pulcarim, può essere uno strumento davvero ottimale per esaltare in modo naturale le caratteristiche dei mosti e per proteggerli riducendo anche le quantità di solfitti e esaltando le caratteristiche varietali.